Passiamo a Monaco di Baviera e vediamo le novità della famiglia MINI SD. Pochi mesi dopo il lancio della nuova gamma MINI e della MINI Countryman sul mercato, il 2011 inizia sotto il segno del massimo divertimento di guida e di un nuovo livello di personalizzazione con il marchio premium britannico. Nella primavera del 2011 viene introdotta la MINI Cooper SD, la variante diesel più potente della gamma di modelli del marchio. Il nuovo motore da 2 litri e 143 cavalli, disponibile per MINI e MINI Clubman, MINI Cabrio e MINI Countryman, vanta un'erogazione di potenza ancora più brillante, abbinata ad un consumo di carburante esemplare. Dopo la MINI One D da 90 cavalli e la MINI Cooper D da 112 cavalli, la nuova MINI Cooper SD si posiziona come la più potente variante diesel della gamma di modelli MINI. Il propulsore 4 cilindri turbodiesel con una cilindrata di 2 litri eroga una potenza massima di 143 cavalli, che viene raggiunta a un regime di 4000 giri al minuto. La coppia massima è di 305 Nm ed è disponibile tra i 1750 e i 2700 giri al minuto. Oltre al famoso rapporto esemplare tra prestazioni di guida e consumo di carburante e ad una straordinaria erogazione di potenza per un motore a 4 cilindri, la MINI Cooper SD è dotata delle premesse ottimali per uno stile di guida fortemente sportivo. Le caratteristiche costruttive fondamentali del nuovo propulsore diesel di 2 litri sono identiche a quelle dei motori di 1.6 della MINI One D e della MINI Cooper D. Il basamento in alluminio contribuisce all'ottimizzazione del peso. Il turbocompressore a geometria variabile sul lato di aspirazione assicura un'erogazione di potenza ideale a tutti i regimi. Il motore della MINI Cooper SD è dotato di un sistema di sovralimentazione speciale particolarmente potente il cui funzionamento viene regolato elettronicamente. Il sistema di iniezione diretta di carburante Common Rail con iniettore piezzoelettrici montati centralmente nella testata cilindri provvede ad un approvvigionamento di carburante preciso ed efficiente. Il sistema lavora ad una pressione massima di 1600 bar e assicura una preparazione della miscela ottimale nella camera di combustione. La nuova MINI Cooper SD è equipaggiata di serie con numerosi componenti della tecnologia minimalismo. Oltre all'elevato rendimento del motore, il modello si distingue nella sua categoria di potenza per un bassissimo consumo di carburante che viene assicurato dal sistema Brake Energy Regeneration, dalla funzione Automatic Start-Stop, dall'indicatore del punto ottimale di cambiata, dal servo sterzo elettromeccanico e dai gruppi secondari comandati in basse al fabbisogno effettivo. Al fine di ottimizzare il comportamento delle emissioni, sia la MINI Cooper D che la MINI One D sono equipaggiate di serie con un filtro antiparticolato diesel e un catalizzatore a ossidazione. La rigenerazione del filtro antiparticolato avviene senza richiedere l'iniezione di carburante supplementare. Come tutti gli attuali modelli MINI, anche le nuove varianti diesel rispettano la normativa antinquinamento Euro 5. Una conferma della straordinaria efficienza è il consumo medio di carburante di 4,3 litri per 100 km nel ciclo di prova UE. Le emissioni di CO2 della MINI Cooper SD sono di 114 g per km. La nuova MINI Cooper SD Klebman accelera da 0 a 100 km all'ora in 8,6 secondi. La sua velocità massima è di 215 km all'ora. Grazie a tutti! Grazie a tutti!